Ciao a tutti ragazzi, oggi torneremo a parlare delle migliori impostazioni grafiche per ottenere i più fps possibili, mantenendo però un'ottima resa grafica, questa volta però Warzone 2 Edition. In più, dato che nello scorso video me l'avete chiesto, entrerò più nel dettaglio e andremo a vedere quali sono le migliori ottimizzazioni Windows per qualsiasi player e per i possessori di schede video Nvidia vedremo come impostare al meglio il pannello di controllo e l'Nvidia Profile Inspector. Ovviamente i risultati di queste impostazioni variano da PC a PC a causa del pessimo lavoro che ha fatto l'Infinity World con l'ottimizzazione nei confronti dei possessori di CPU Intel. Le specifiche del mio PC le troverete in descrizione. Per darvi un'idea, questo è il risultato che ho ottenuto nella sezione benchmark del gioco con il setting consigliato e quindi sono passato da questi fps a questi fps del mio setting personalizzato in game e infine a questo ulteriore boost dovuto alle ottimizzazioni fuori dal gioco. Ovviamente aggiungo che il setting grafico tutto low è sempre quello che genera più fps come stato osservando ma a discapito di una visual veramente orribile dove guadagnare solo 5 fps come nel mio caso non è assolutamente un buon trade ma vedremo più avanti le comparazioni in dettaglio. Iniziamo! Ed eccoci alla comparazione. A sinistra abbiamo il setting consigliato dal gioco, al centro i setting personalizzati da me e a destra il setting tutto low. Come possiamo osservare c'è un abisso di differenza, da qualsiasi lato vogliamo vedere la comparazione, infatti i dettagli vicini e lontani del mio setting sono nettamente più nitidi degli altri due, calcolando addirittura che il setting consigliato a sinistra equivale a maxare tutte le impostazioni. Quindi guardando gli fps generati dal mio setting comprensive di ottimizzazioni Windows e pannello Nvidia praticamente facciamo quasi gli stessi fps del setting tutto low ma con una visual migliore del setting tutto maxato. Asso dato questo passiamo nel vivo delle impostazioni e vediamo quali sono. Qui non c'è molto da dire quindi le scorrerò velocemente per farvele copiare, mi fermerò solo sulla dimensione memoria video per impostarla al meglio. Ok, un'altra volta è un'altra volta. arrivati a questo punto vi do un piccolo tip su come impostare questo valore. Se avete il gioco completo, quindi anche Modern Warfare 2, avrete accesso alla sezione benchmark. Quindi il mio consiglio è inizialmente di impostarlo sul valore 90, copiate tutti i miei setting e fate un benchmark. Alla fine del benchmark vi apparirà a destra dei risultati finali questa schermata, dove potete osservare il valore utilizzo VRAM totale. Bene, prendete nota della percentuale e se nel caso in cui avete delle schede video datate probabilmente vedrete questo valore su 60, 70 o anche il 75%. Ok, quindi a quel punto tornate sulle impostazioni video e mettete quella stessa percentuale, o comunque la più vicina possibile dato che va a step di 10. Per tutti quelli che invece hanno delle schede video aggiornate come nel mio caso, allora vi basterà impostare il valore su 70. Ad ogni modo evitate di portarlo a 90 a meno che non abbiate un RTX 4090 o 4080. Questo perché averlo a 70 invece che a 90 è vero che vi fa perdere un qualcosa come 5 o 6 fps, ma ne guadagnate tantissimo di 1% low, quindi riducendo di molto lo stuttering. Continuiamo. Prima di passare alle ottimizzazioni Windows vi rubo solo un attimo per dirvi che se il video vi sta piacendo, iscrivetevi, mettete like e attivate la campanella, così da non perdervi nessun aggiornamento. In caso contrario fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Passiamo ora alle ottimizzazioni da fare in Windows. Per prima cosa andremo a pulire tutte le app che si avviano in background allo start. Quindi cliccate sul logo di Windows con il tasto destro del mouse e andate su gestione attività. Cliccate su questa icona e andate a disabilitare tutte quelle app che siete certi non usate tutti i giorni. Questo non pregiudicherà il corretto funzionamento dell'app, ma semplicemente non la lascerà in background su chiare risorse alla CPU. Altra cosa molto importante, chiudete tutte le app in basso a destra che non state utilizzando, per lo stesso motivo dello step precedente. Per alcune app tipo Battle.net ad esempio, potete inoltre dirgli di chiudersi in automatico appena il gioco viene startato, proprio come sto facendo io. Per il prossimo step vi basterà andare sullo strumento cerca e scrivere modalità gioco. Cliccate attiva modalità gioco e spostate il selettore verso destra. Questo vi permetterà di far capire a Windows che siete dei gamer e quindi fargli cercare di disattivare quanti più elementi possibili in background. Se siete degli utilizzatori di Google Chrome, una cosa molto utile da fare per alleggerire la CPU è andare su Impostazioni, poi Sistema e spostare il primo selettore verso sinistra. Questo vi permetterà di chiudere ogni plugin alla chiusura di Chrome. Passiamo ora ad un programmino che secondo me tutti dovrebbero utilizzare, Intelligent Standby List Cleaner. Questo programma vi permetterà di mantenere la metà della RAM libera costantemente e di abbassare il time and resolution fino a mezzo millisecondo. Il time and resolution, detto in parole povere, non è altro che il tempo che la CPU impiega a rifresciarsi e aggiornarsi ogni volta, quindi da renderlo molto più reattivo. Per impostarlo vi basterà leggere in alto il valore esatto della vostra RAM e impostare nel riquadro in basso l'esatta metà di quel valore. Poi nel riquadro a destra scrivete 0.50, flaggate la spunta sotto e quando darete il comando Start vedrete il Current Timer Resolution passare da 1 millisecondo a 0.5 millisecondi. Per quanto riguarda il polling rate, impostatelo su 500 se avete un PC performante di ultima generazione, in tutti gli altri casi va bene mille. Per il download di questo programma troverete il link in descrizione. Ora tornate sullo strumento cerca e digitate sensore memoria e cliccate il primo risultato. Una volta aperta la finestra attivatelo e il gioco è fatto. Questo vi permetterà di tenere il sistema pulito soprattutto dai file temporanei. Sempre dallo strumento cerca digitate questa volta configurazione di sistema. Selezionate il primo risultato e una volta aperta la finestra andate nel tab servizi. Una volta dentro cliccate nascondi tutti i servizi Microsoft così da ridurre la lista sensibilmente. E tutti i servizi che vedrete dentro sono relative alle app che avete installato quindi andremo a disabilitare tutti quei servizi che siamo certi che non utilizziamo più tipo di app che sono state anche disinstallate. Nel mio specifico caso il pc è nuovo quindi non avendo un windows vissuto di installazione e disinstallazioni c'è ben poco da disabilitare. Una volta fatto cliccate applica ok e riavviate. Ora di nuovo su cerca e scriviamo risparmio energia. Cliccate il primo risultato poi opzioni risparmio energia e qui se vi appare prestazioni eccellenti cliccatelo oppure va benissimo prestazioni elevate. Torniamo su cerca e scriviamo cmd tasto destro sul primo risultato e clicchiamo esegui come amministratore. Una volta aperto il prompt dei comandi scriviamo sfc spazio slash scan now. Tutto attaccato e tutto maiuscolo. Premete invio e questo comando farà un check del sistema per vedere se ci sono file corrotti. Se li trova li ripristinerà in automatico. Una volta completato il procedimento chiudete la finestra. Il prossimo step è il più banale ma è importante al pari degli altri ed è semplicemente verificare se ci sono nel caso farli gli aggiornamenti di windows. Quindi utilizziamo la stessa regola per gli aggiornamenti della scheda video che ultimamente a differenza dell'altra volta come vi ho fatto notare nel post del tab community del mio canale i driver video non stanno più impattando negativamente sugli fps. Passiamo ora allo step più importante in assoluto il renderer worker count che semplicemente è il modo con cui warzone usa i core del nostro processore. Andiamo su documenti call of duty players e apriamo il file options.3.code22 con un qualsiasi editor di testo. In fondo alla pagina troverete il renderer worker count. Ora qui il valore da mettere è l'esatta metà dei processori logici. Per sapere quanti processori logici ha la vostra cpu vi basterà andare su gestione attività nel tab prestazioni e li troverete esattamente sotto i cores. Spesso e volentieri quelli che imposta warzone di default sono errati proprio come nel mio caso che invece di 8 avevo 7. Una volta messo il numero giusto salvate e il gioco è fatto. Possibilmente fate lo gioco chiuso così non dovete riavviarlo. Come ultima ottimizzazione di windows andiamo sull'icona di warzone. Tasto destro, apri percorso file, apriamo la cartella retail, troviamo l'eseguibile cod.exe, tasto destro, proprietà. Una volta aperta la finestra andiamo sul tab compatibilità, attiviamo disabilita ottimizzazione schermo intero, poi andiamo su modifica impostazioni dpi elevati e clicchiamo su esegui l'override. Clicchiamo ok, applica e di nuovo ok. Questa impostazione serve a fare qualche fps in più, ridurre lo stuttering e ridurre l'input lag. In merito a questo step vi consiglio di farlo su qualsiasi gioco che avete installato sul pc. È davvero un'ottima ottimizzazione. Finito con le ottimizzazioni windows, passiamo ora alle ottimizzazioni per i possessori di schede video in video. Iniziamo dal pannello di controllo. Qui non vi seguirò step per step, vi basterà copiare qualsiasi cosa io faccia. Userò questo tempo per dirvi che ogni tanto dalla clip vedrete delle schermate nere, questo è perché applicando le impostazioni si rifrescia la scheda video. Un'altra cosa che voglio specificare è la parte che a breve vedrete dove deselezione il G-Sync e selezione un aggiornamento fisso. Questo perché la tecnologia G-Sync, che sinceramente trovo fantastica, è utile solo se non riuscite a cappare il refresh rate del monitor. Mi spiego. Prendiamo come esempio il mio monitor che arriva a 180 Hz. Se andassi al 90% del tempo in gioco a 160 fps, quindi 20 punti sotto il massimo del refresh rate del monitor, allora devo attivare il G-Sync per avere un'immagine diciamo più stabile. Ma siccome vado over 200 fps e quindi ben sopra il massimo del refresh rate del monitor, il G-Sync non lavora, perché inizia a lavorare solo quando sei sotto 3 punti dal refresh rate. Quindi, nel mio caso, mantenerlo attivo aggiunge una quantità immane di input lag. Un'altra cosa che voglio dirvi è che se dopo queste impostazioni per qualche motivo vi troviate male, sia di fps che di visual, potete tornare sul pannello di controllo e come potete vedere in ogni tab in alto a destra c'è la scritta Ripristina valori predefiniti. Cliccate lì e il gioco è fatto, riavrete tutto come prima. Ok, abbiamo finito anche con il pannello di controllo NVIDIA. Passiamo ora all'ultimissimo step del video, NVIDIA Profile Inspector, troverete il link per scaricarlo in descrizione. Questo programma vi permetterà di fare modifiche più in profondità e dettagliata del pannello di controllo. Anche qui, per non rendere il video più lungo di quello che già è, non mi fermerò a spiegare ogni singola cosa perché si va ancora di più nel dettaglio, quindi vi basterà seguire ogni mio step e il gioco è fatto. L'importante da dire sono solo due cose. La prima è che una volta impostato tutto, assicuratevi di aver cliccato in alto a destra il tasto Apply Changes. La seconda è che se qualcosa non vi piace e volete tornare indietro, vi basterà riaprire l'inspector e cliccare sull'occhietto verde del logo NVIDIA in alto, per ripristinare tutto di default. Attenzione però, non ripristinerà soltanto l'inspector, ma ripristinerà anche il pannello di controllo NVIDIA. E con questo è tutto. Ora avete il PC completamente ottimizzato per il gaming, anche perché sia la sezione Windows che quella NVIDIA vanno bene per qualsiasi gioco, non solo per Warzone. Spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. A me non resta altro che salutarvi. Al prossimo video. Ciao 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 ciao.